Assessore di Cosimo, Estate sul Gran Sasso e Festa dei Castelli, tantissimi eventi di quest'estate aquilana, un cartellone organizzato, promosso dal Comune dell'Aquila. Esattamente, volevamo dare supporto, informazione turistica, promozione turistica a tutti quelli che animeranno e arriveranno in città. Queste due iniziative, Festa sul Gran Sasso e Festa dei Castelli, sono due cartelloni che si mescolano l'uno sull'altro. Intanto perché chi viene all'Aquila, oltre a godere del meraviglioso patrimonio storico, artistico e culturale che la città sa offrire, ha anche un territorio adiacente, pieno di borghi meravigliosi. Borghi che fanno parte delle reti nazionali dei borghi più belli d'Italia, borghi romantici, tra tutti potrei dire Navelli, Castel del Monte, Santo Stefano di Sestanio, la Rocca di Calascio. Insomma, sappiamo benissimo borghi che già sono noti sul territorio nazionale. In più tutti quanti gli altri che offriranno feste patronali, sagre di paese, anche per evidenziare e promuovere le loro eccellenze enogastronomiche, così come tutte le tradizioni popolari. E in più il turista potrà avere una montagna di eventi con cui veramente aglietarsi con escursioni, attività sportive, per goderci questa montagna che sta a offrire tantissimo, anche e soprattutto d'estate, oltre all'attività scistica invernale. Queste nostre montagne intanto da panorami mozzafiato, di cui abbiamo già potuto godere anche all'arrivo della tappa del Giro d'Italia, proprio su Campo Imperatore. Tutti quanti noi conosciamo il nostro meraviglioso piccolo Tibet e tutto quello che il nostro Gran Sasso può offrire. E quindi veramente questa è una brochure che può far capire a tutti i turisti che passare una settimana di vacanza all'Aquila non è solo centro storico della città dell'Aquila, ma tutto un territorio organizzato.